Contro le politiche agricole dell'Europa, le scelte del governo e le grandi confederazioni agricole a difesa dell'agricoltura e dei territori, ma anche del lavoro e delle piccole imprese dall'attacco delle importazioni e dal tradimento dei sindacati saccheggiati dalla politica e martoriati dalle banche. Testuali parole nelle ragioni della protesta indetta oggi in alcune piazze italiane dal Comitato degli Agricoltori Traditi. Mobilitazioni in corso anche a Pescara con 300 trattori all'Excofa. Sulla scia di quanto sta accadendo in Germania e in altri paesi europei e anche in Italia la categoria degli agricoltori protesta. Siamo al disastro. Tassi, accordi internazionali anche bilaterali con paesi che permettono di portare qui merci a prezzi stracciati. Ci stanno uccidendo e non abbiamo più rappresentanze sindacali. È in gioco la sopravvivenza stessa dell'agricoltore in Europa. Noi qui non è una lotta contro qualcuno, è un appello. Stiamo cercando di parlare con le istituzioni e semplicemente aggiornarle che stiamo per chiudere le nostre aziende. Oggi è antieconomico. Non è una lotta contro nessuno. I sindacati dovrebbero essere qui con noi, speriamo che arrivano praticamente perché tutti insieme, insieme alle istituzioni, per ognuno per la propria parte, possiamo forse salvare l'agricoltore. L'agricoltore, se muore in Europa, noi diventiamo dipendenti sulla nostra alimentazione, su paesi lontani. Poi è inutile che vogliamo fare il green, gli ambientalisti, se i prodotti arrivano dall'altra parte del mondo. L'organizzatore Carlo Donofrio parla di troppi attacchi da parte dell'Unione Europea, Made in Italy, storico, ci stanno portando a non coltivare più questi prodotti, tuona. La Nazione Italia, il settore agricoltura è un settore primario, quindi non ci possiamo permettere assolutamente di non produrre più a favore dei prodotti sintetici, quale le bistecche, quale le uova, quale le farine di insetti o mangiare grilli, fritti e robe varie. Noi abbiamo tantissimi prodotti che sono eccellenze internazionali da tutelare. Quindi quali sono le scelte che condividete? Le scelte, se vogliamo parlare dai costi di produzione che sono aumentati in maniera esageratamente con le due guerre in atto appena dopo la pandemia, le scelte stanno pagando e vogliono pagare terreni a non coltivarli, dando naturalmente dei contributi a favore effettivamente di questi cibi sintetici.